Mancano pochi giorni agli esami di maturetà nell'anno del coronavirus. Sarà un esame di Stato più snello rispetto agli altri anni per far fronte all'emergenza sanitaria. Sono state eliminate le prove scritte. Ci sarà un orale più complesso in presenza, nel rispetto però delle misure di sicurezza previste dai decreti. La commissione sarà tutta interna, ad eccezione del presidente e tutti, candidato compreso, dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di due metri. Lo studente però potrà portare un accompagnatore. Per sapere come si stanno organizzando gli istituti superiori a Nuoro siamo andati al liceo classico Giorgio Asproni, dove il preside, il professore Antonio Fadda, ci ha raccontato l'esame ai tempi del coronavirus. Sì, è un esame certamente anomalo dal punto di vista delle novità che saranno adottate. È certo un esame che sarà completamente diverso dal passato. Ci sarà questa mascherina che certo spersonalizzerà sia i commissari che gli studenti e poi soprattutto ci sarà da parte dei candidati il vivere l'esame in solitudine. Non ci saranno i compagni che li accompagnano, che stanno vicino, che sostengono. Non ci saranno i parenti che spesso, anche se non sempre, risultano presenti in un'occasione importante come questa. Non ci saranno tanti momenti che precedono l'esame con la loro emozione, con la prensione, l'ansia, a volte anche eccessive, che però fanno parte del vissuto di chi l'ha già fatto l'esame e che fanno parte del vissuto di chi lo farà fra qualche giorno. L'intervista integrale la potrete vedere durante il telegiornale della sera.